Solistin Tour, quinta staff, amici! Ebbene, vi vedo curiosi di capire di cosa si tratta, che cos'è Solistin Tour? Solistin Tour è una sfida tra cantanti più o meno famosi, poi li scoprirete nel prosieguo della serata, magari alcuni di loro li avrete già sentiti in radio, magari li avrete visti in qualche tv locale, più o meno locale. Ebbene, loro si sfideranno con due brani, un brano inedito, presentato direttamente da loro per la prima volta, e una cover, ci saranno alcune tra le canzoni più famose che abbiamo scritto. Ma non basta, non mi basta, perché su questo palco voglio anche lui, la mia valletta, la mia studentessa preferita, colei che si definisce la migliore amica della sua migliore amica, Crazy Lorenzo! Eccolo qua, guardatelo! Ecco, fai vedere quell'altra mossa che sai fare? Bravo! Falle vedere tutte e due? Eh, benissimo! Bene, lui? Bene! 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 l'universo, sole infinitamente, ora sai, niente conta il mondo, è più amore, sì però così io non ci sto, no, io così non ci sto, tutte le sue lacrime non ne dimentica non è meno una, non è scritto sulla stelle, non è scritto sulla luna, vuoi c'è l'idea che mi parà, è solo mía musica Grazie. 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 Il vincitore della tappa di Bibione è... The Darkness Tenebré. Tenebré! Complimenti! Mamma mia! Mamma mia! Mamma mia che roba!